Avrai, Camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovanetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli, che ti vide fuggire. Ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro d'un macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono, per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi, con lo stesso impegno. Popolo serrato attorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Guarda l'Argo! Guarda l'Argo! Guarda l'Argo! Guarda l'Argo! Guarda l'Argo! L'Argo! E batta! Ripa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.